Prima uscita stagionale per il nuovo suitiro all'edizione 2014-2015 che a Moena si misura con lo Spezia a formazione di Serie B. Nel primo tempo il suitiro si affida in difesa alla coppia centrale Chiem-Pacifico con tight playmaker spalleggiato da Furlana e Fink, mentre nel tridente d'attacco Fishnaller funge da prima punta con Canotto e Marras ai suoi lati. In un pomeriggio dalla temperatura autunnale, inizio di match di marca Ligure con lo Spezia che esercita una certa pressione offensiva, operando il primo a fondo al sesto con Catellani che sfugge a Chiem-Pacifico in Sincunea in area, per poi cadere a terra toccato da Tergo da Martin. Il suitiro rimane raccolto nella propria metà campo e l'undicesimo lo Spezia passa in vantaggio con Catellani che apre a sinistra per Schiattarella, il quale si accentra, palla al piede e insacca il pallone sul primo palo. È lo Spezia a fare la partita pervenendo a raddoppio il ventunesimo quando Schiattarella calcia un angolo per il cross di Migliore, che innesca la sponda aerea di Ebagua, sulla quale ancora Schiattarella tutto solo, fa 2-0 e doppietta personale. Il suitiro alleggerisce la pressione Ligure con Marras a guadagnarsi caparbiamente un calcio d'angolo, che lo stesso ex Spezzino batte per il colpo di testa impreciso di Fischnaller, ma poi ancora Spezia, con Madonna che si libera sulla destra per poi effettuare un cross radente, sul quale Chiem scivolata fa autogol e 3-0 per i Liguri, parziale con il quale si conclude il primo tempo. Girandola di sostituzione nell'intervallo in entrambe le squadre. Nel suitiro le entrano fra gli altri Campo, Cia e Branca, con Miori e Fischnaller unici superstiti del primo tempo. Biancorossi più intraprendenti e l'ottavo su bella iniziativa di Branca il pallone perviene centralmente a campo, il cui tiro mancino è debole centrale. Al dodicesimo arriva il momento di Manuel De Luca, centravanti di Lives, che a soli 16 anni debutta in prima squadra, rilevando Fischnaller. Altro baby in campo poco dopo, ovvero Ivan Taibon, portiere classe 1997. Più equilibrato il secondo tempo con Cia a provare la conclusione della distanza, creando qualche imbarazzo a Nocchi. Al quarantunesimo arriva però il quarto gol Ligure su prudezza balistica da calcio piazzato di Bastoni. Il test match di Moena finisce 4-0 per lo Spezia. Prossimo appuntamento estivo per il Suitirol, l'amichevole di giovedì al 17.30 Stange di Racines contro l'Ellas Verona, squadra rivelazione dello scorso campionato di Serie A.